Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate. Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto. Agenzia Generale Unipolsai, Anivalli e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, bell'occhi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 29, anche l'undicesima di questa seconda stagione del settimanale di Fano TV. L'alma che francamente non ti aspetti, quella che sottomette l'Avezzano e si porta a casa una vittoria pesantissima, anche proprio per il modo in cui è stata ottenuta. La formazione di Cornacchini alla sua seconda partita sulla panchina. Granata cambiato, pelle qualcosa, sera intravisto, soprattutto nella parte iniziale della sfida con il Sora. Ma è con l'Avezzano che la squadra ha assunto questa nuova dimensione, molto aggressiva, molto determinata, generosa, sempre alla ricerca della pressione alta. Questo ha impedito all'Avezzano di entrare concretamente in partita. Avezzano che al di là del provvisorio 1-1 poco ha combinato nella metà campo avversaria. Alma che si è distinta nell'occasione anche per produttività. Al di là dei tre gol non era mai accaduto nella stessa partita in questo campionato. Anche diverse altre situazioni favorevoli. Come vediamo dalle immagini, Alma che la sblocca nel corso del primo tempo con l'ultimo arrivato. Culibali in mezzo. Attenzione, la palla passa, la palla passa, tiro, rete! Rete, è il primo roll, rete! Gol del fano. È sbagliato il rivio di guerrieri, pericolo, pericolo. Senesi, Senesi, ha la palla, buona il tiro, tiro, gol! Senesi tira una bomba, un missile che si... Si prova a cercare Calombo, lo si trova, Calombo, bella la giocata di Calombo. Rossi, mezzo te solo! Cosa ha sbagliato Tenkorang? Cosa ha sbagliato? Tutto buono. Il pubblico protesta. Alla giocata è buona. Attenzione, Tenkorang! Tenkorang, gol! Rete di Tenkorang! Che si rifà immediatamente. Più imponente. Palla per Padovani, che dà una bella palla per Tenkorang. Rete! Rete! Ancora una volta! L'asse Padovani-Tenkorang! Ancora una volta! Ma il dato lascia il tempo che trova perché lì in fondo davvero la classifica è cortissima. Ancora una volta! Sbagliata ai risultati notiamo come peraltro proprio nelle parti più rischiose della gradatoria l'Alma abbia potuto avvalersi dei passi falsi di Termoli e Matese. Anche il Tivoli non è andato oltre il pareggio come l'atletico Ascoli. Lo scatto in avanti è stato del Real Monte Rotondo che sarà avversario dell'Alma nel turno pre-natalizio. Quello in calendario per domani, uno scontro diretto in piena regola in cui l'Alma sarà chiamata a dare le conferme del caso per poi fare un ulteriore scatto in avanti in una classifica in cui, dando un'occhiata a quello che succede invece nelle parti più nobili, Campobasso che ha operato un mini a lungo nei confronti dell'Assemblee d'Ettese mentre per quello che riguarda il Fosso Ombrone continuano ad inanellarsi risultati positivi anche se all'insegna di qualche difficoltà in termini realizzativi positivo. Comunque lo 0-0 di Sora. E occupiamoci adesso di pallavolo. Parlare di doppia personalità forse potrebbe risultare eccessivo. È però un dato che la Smart System, protagonista del campionato di A3 maschile, in casa somiglia a uno schiacciassassi mentre in trasferta lamenti più di una difficoltà. Una valutazione che è stata convalidata nell'ultima esibizione casalinga della squadra di Paolo Tofoli che si è imposta nettamente ad un Marcianise che peraltro ha confermato di essere all'altezza della sua modesta classifica. Una 3-0 che ha segnato un pronto ritorno al successo dopo la sconfitta altrettanto netta di Macerata e che ha contribuito alla riconquista del secondo posto in classifica. Tratteremo l'argomento con il vice allenatore della Smart System Simone Roscini. Buonasera e bentornato. Buonasera. Mentre con Marco Mantile parleremo ovviamente anche del campionato della prima squadra ma poi ci concentreremo sulla Fano International Volley Cup, la manifestazione di Finiano ormai appuntamento rituale che è in rampa di lancio perché l'organizzazione è ormai ai dettagli se possiamo così definire. Partiamo da questa Smart System Marcianise, partita a senso unico con la squadra fanese che ha imposto subito il suo ritmo in battuta. Poi anche Amuro ha fatto valere una diversità di peso che è stata evidente anche in attacco. Sì, sicuramente siamo riusciti a fare una buona partita. Temevamo un po' questo incontro perché Marcianise veniva dalla partita contro Macerata dove aveva messo in difficoltà la capolista perdendo solo al quinto set. Abbiamo cercato di preparare al meglio la partita, i ragazzi hanno effettivamente fatto una buona prestazione siamo riusciti a incanalare tutti i 3-7 nella giusta direzione e abbiamo portato a casa un buon risultato. Partita che ha segnato il debutto nelle file fanesi del nuovo posto, Ristian Dimitrov, bulgaro di 24 anni l'anno scorso visto a Parma in uscita dall'Erab, club del suo paese che ha un po' ridimensionato l'attività mi pare che abbia già fatto intravedere se non altro quelle che sono le sue qualità grande atletismo, bella botta, insomma un giocatore che comunque sul piano dell'esuberanza è sicuramente in grado di recitare un ruolo da protagonista. Sì, il test di domenica chiaramente era un test per lui importante anche se aveva con noi praticamente solo una settimana d'allenamento però secondo me ha sicuramente disputato una buona partita, è chiaro che adesso dovrà essere verificato anche in partite tra virgolette più provanti e quella del 26 dicembre già lo è in maniera abbastanza importante. Diciamo che di Bulgari a Fano ne abbiamo già visto uno e il segno l'ha lasciato. Sì, direi di sì, insomma c'è chi ancora si ricorda di Lyubo Ganev che sicuramente a Fano ha lasciato un grandissimo ricordo, io spererei anche che poi la fine del campionato di quest'anno sia la stessa di quella quando venne Lyubo, insomma ecco però ancora c'è tempo questo ragazzo qui sicuramente è un ragazzo giovane, ha avuto già l'esperienza dell'anno scorso di Parma quindi conosce anche un pochettino il livello della pallavolo italiana, della tre italiana e spero appunto che ci possa dare una mano per fare dei buoni risultati. Dimitrov ingaggiato in luogo di Mikalovic che non è riuscito diciamo così a ripagare le aspettative, è un giocatore dal bagaglio importante che però appunto non è riuscito a fornire quel contributo che la società si attendeva Marco. Sì, sicuramente ci attendevamo qualcosina di più da Peter Mikalovic, un ragazzo, una premessa dovuta, un ragazzo eccezionale, bravissimo, un vero e proprio professionista sia dentro che fuori dal campo, però purtroppo in campo la società si aspettava qualcosina di più, quel qualcosina di più che non è arrivato e ne abbiamo approfittato della situazione che si era creata all'Ebar in Bulgaria con la squadra in cui militava Christian Dimitrov e ne abbiamo approfittato facendolo arrivare qui a Fano e provando questo cambio in corsa affinché la squadra possa avere una freccia in più a disposizione del proprio arco. Anche perché sull'opposto non si transige, se si vuole arrivare da qualche parte occorre che sia in grado appunto di fornire un apporto sostanzioso. Oramai nella pallavolo moderna diciamo che l'asse palleggiatore opposto è l'asse che solitamente viene costruita per prima quando appunto si mette in piedi la squadra per il campionato, quindi il peso dell'opposto è sicuramente un peso importantissimo e è chiaro che come diceva Marco qualche difficoltà noi con Peter l'abbiamo avuta, dispiace perché appunto aveva dimostrato di essere un professionista di altissimo livello però chiaramente nel campionato stava incidendo in maniera minore rispetto a quello che ci si aspettava, la società ha avuto questa opportunità, l'ha presa al volo, speriamo insomma ecco che tutto possa andare per il meglio. Percorso accidentato quest'anno nel ruolo di opposto, è stato ingaggiato Rizu Gonzales, Cubano che poi è stato rilasciato perché non ha ottenuto idoneità sportiva, ci si è buttati su Mikalovic che sembrava dare le massime garanzie ma non è stato questo il caso ed ora Dimitrov si spera sia la volta buona. Speriamo finalmente, non c'è due senza tre, però speriamo che in questo caso la frase venga presa al contrario. Purtroppo con Alerizza abbiamo avuto delle problematiche indipendenti da nessuno e che nessuno poteva sapere prima. Con Mikalovic è andata come è andata e adesso con Dimitrov sicuramente quello che ha dimostrato lo scorso anno nel campionato italiano sono numeri importanti, numeri di alto livello e speriamo che possa ripeterlo in questo girono di ritorno con la maglia della Smart System e portarci il più possibile in alta in classifica a cominciare già dalla prossima trasferta difficilissima di San Giustino. Ma cosa succede a questa Smart System in trasferta? È una bella domanda, sicuramente il ruolino di marcia che abbiamo avuto in casa è stato un percorso importante fuori casa, purtroppo invece abbiamo avuto così, delle situazioni non positive. Speriamo di invertire la rotta il prima possibile, è vero che in casa riusciamo ad avere un rendimento nei fondamentali superiore a quello che riusciamo poi a sviluppare fuori casa. A partire da questa battuta che in casa riesce in qualche modo a smontare il gioco avversario già in partenza, invece fuori dal Palace Allende non è così incisiva. Esatto, il servizio sicuramente nelle partite casalinghe è stato praticamente sempre determinante, cosa che invece fuori casa è stato un po' latitante. Speriamo appunto con il lavoro settimanale di riuscire a mettere a puntino anche questa cosa qua, perché chiaramente anche fuori casa dovremmo cercare di portare a casa punti e vincere partite che in questo momento invece magari non ci vedono nella situazione positiva. Abbiamo perso tre partite, con Macerata sicuramente ci poteva stare, perché Macerata in questo momento ha dimostrato di essere veramente la squadra probabilmente che ha qualcosina di più, ma le sconfitte di Sorrento e Palmi secondo me qualcosa di più si poteva sicuramente fare. Orfana di Roberti, la smarsista domenica come di Galdenzi, entrambi influenzati, titolare non è la prima volta a Margutti e credo che abbia fornito risposte decisamente convincenti. Ma sicuramente, Pic è un giocatore assolutamente importante per la Serie 3, sarebbe sicuramente titolare in quasi tutte le altre formazioni di Serie A e si è dimostrato un giocatore di assoluto livello. È entrato, si è fatto trovare pronto così come aveva già fatto nella gara casalinga con Modica per sostituire Pietro Merlo. È stato impeccabile, imbattuta, ricezione in attacco e sicuramente è stato un importante valore per raggiungere poi la vittoria finale con Marcianise. Perché poi non è facile cominciare dalla panchina ed essere chiamato in causa e riuscire appunto a dare un contributo come è stato nel caso di Margutti che addirittura nel secondo set è stato determinante. Sì, come diceva Marco, sicuramente Pic ha fatto una buonissima partita, l'aveva già fatta con Modica ma appunto è un giocatore sicuramente su cui noi facciamo affidamento. È chiaro che i titolari sono due e quindi le scelte vanno fatte a seconda appunto della situazione ma Pietro è stato bravissimo a farsi trovare sempre pronto. Io sono dell'idea che sarà un giocatore che ci tornerà utile anche in altre situazioni, in altre partite per magari riportare risultati positivi come è capitato domenica scorsa. A proposito di risultati, quelli dell'ultimo turno, accanto alla vittoria di Fano a spese di Marcianise che come vedremo ha riportato i virtussini al secondo posto, la nuova fermazione di Macerata, capolista incontrastata sinora del girone, quella di Palmi sull'Agronegro in uno scontro diretto al vertice che in qualche modo sancisce la rinascita della squadra regina. San Giustino perde al tie-break a Sorrento, ma era orfana dell'opposto titolare. Classifica con la Smart System a sette lunghezze appunto da Macerata, un solo punto di vantaggio su Lago Negro, due su San Giustino, tre su Palmi, sono le quattro squadre dalla seconda alla quinta che si giocheranno le tre posizioni ancora disponibili per poi disputare la Coppa Italia, turno preliminare il 10 gennaio. Si fa presto a fare il calcolo, la Smart System per garantirsi il secondo posto deve vincere a San Giustino il 26 dicembre. Per garantirsi uno dei primi quattro posti è sufficiente che conquizi un set, ma non credo sia il caso di fare troppe congetture. No, sicuramente non è il caso di fare troppi calcoli. Noi dobbiamo andare a San Giustino e fare il meglio e cercare di vincere. Basterebbe anche un 3-2 per arrivare secondi, ma per noi sarebbe importante conservare la seconda piazza della classifica perché vorrebbe dire giocare i quarti di finale in casa, quindi avere sicuramente un vantaggio nel poter disputare i quarti senza andare in trasferta, sperando che poi l'esito dei quarti in casa non abbia lo stesso esito dell'anno scorso. Ma questo è un argomento che poi vedremo eventualmente dopo. Intanto pensiamo a San Giustino, a fare bene, ovviamente il nostro obiettivo non è conquistare un set, ma fare il meglio e poi riportare a casa la nona vittoria stagionale. Spostiamo adesso l'obiettivo dalla prima squadra al settore giovanile, in particolare all'organizzazione di questa Fanno, International Volley Cup, che come al solito connoterà la conclusione d'anno. Marco, quest'anno l'evento torna ad ampliarsi, superata l'emergenza pandemica, un numero di squadre record e partecipazioni anche dall'estero. Quest'anno un'edizione rispetto alle precedenti che fa un ulteriore passo in avanti. Abbiamo lo stesso numero di squadre della precedente edizione e quest'anno abbiamo dovuto dire di no ad alcune squadre perché purtroppo eravamo arrivati a un punto limite oltre il quale non potevamo andare. Parliamo di? Parliamo di 100 squadre partecipanti. La novità di quest'anno è che tra le 100 squadre ci sono 6 squadre provenienti dall'estero, 4 squadre provenienti da Belgrado, di cui 3 femminili ed una maschile, e 2 squadre femminili provenienti dall'Olanda. Tra l'altro sono le formazioni dello Sly Direct, partecipanti al campionato di massima serie proprio in Olanda. Ricordiamo il target di questo evento? Allora, il target di questo evento, le categorie femminili sono under 13, 14, 16 e 18, maschile under 15 e under 17. Il torneo partirà ufficialmente il 27 dicembre, con tutte le gare a partire dalle 9 del mattino, fino alla finalissima che si disputerà il 29 dicembre alle ore 15 al Palace Allende di Fano. Questa è la novità rispetto agli altri anni, tornava a Fano e non al Palacampanara, con a seguire la premiazione di tutte le squadre partecipanti. Una manifestazione che si articola sul territorio e che interesserà quante località e quanti impianti. Ad alcuni numeri. Parliamo di circa 23 impianti di gioco, che vanno da Senigaglia, per poi passare a Cogli al Metauro, Lucrezia, Fano e Pesaro. Disputeremo in tre giorni 280 gare e possiamo contare oltre 2200 presenze alberghiere. E questo, sotto le feste, non è un dato sicuramente trascurabile. Un grande impegno organizzativo però. È un impegno molto molto gravoso a livello organizzativo, perché comunque sia, oltre alla gestione dei campi, prevedono anche che ci sia un alto numero di volontari. E questo è possibile grazie ai ragazzi del settore giovanile della Virtus che non partecipano al torneo, grazie anche alla collaborazione con le altre società del territorio, a partire da Senigaglia, passando all'Apav, Monteporcio, l'Adriatica, Blue Volley Pesaro, Snoopy Pesaro, Montesi Pesaro. Nel senso, è un gioco di squadra che permette poi di raggiungere questo risultato organizzativo sicuramente importante. Non dimentichiamoci che il Fano International Volley Cup è il secondo torneo più grande d'Italia che si svolge a Natale dopo l'Underlini-Modena. Che si abbina alla Fano 13 Cup, altro evento destinato al settore giovanile. Mi pare ci sia la volontà chiara, non soltanto di continuare a coltivare il proprio vivaio, ma anche di distinguersi come soggetto in grado di organizzare questi eventi di ampia portata. Ma sicuramente da quel punto di vista non ci facciamo mancare nulla. Non dimentichiamoci che quest'anno abbiamo anche già avuto a settembre ospiti dieci giorni una formazione della nazionale e di una nazionale giovanile svizzera. Abbiamo diverse squadre che vengono in ritiro a Fano per preparare al meglio la stagione. Abbiamo appunto il torneo di Pasqua, la 13 Cup. E poi ogni anno, se capita la possibilità di organizzare qualche evento di Lega o federale nel periodo maggio-giugno, sicuramente non ci tiriamo indietro. Per finire, come se la passa il vivaio Virtussino, che è serbatoio storico anche della prima squadra e comunque una realtà consolidata da decenni? Il vivaio sicuramente è bene, perché quest'anno abbiamo confermato i 500 tesserati che sono numeri decisamente importanti. Parliamo di circa 30 campionati a livello giovanile. Le ragazze crescono, i ragazzi crescono. E poi soprattutto per noi la cosa più bella è vedere che ogni domenica sono al Palace Land a sostenere la prima squadra. E speriamo che pian piano, oltre a crescere il settore giovanile maschile, continua ad andare bene, comunque sia il treno della Serie A. Puntiamo anche nel far crescere il settore giovanile femminile. Che attualmente è una prima squadra in Serie C, ma pian piano nel corso degli anni non ci dispiacerebbe arrivare a disputare un campionato nazionale. Grazie a Marco Mantile, dirigente della Smart System Fano. Grazie a Simone Roscini, viceallenatore della prima squadra. Noi torniamo fra qualche attimo. Molto diffusa la passione per la corsa, ma c'è modo e modo di declinarla. Il nostro ospite di questa sera ne ha scelto uno, certamente singolare, ma anche altamente nobile. Buonasera e benvenuto a Massimo Sabatelli. Buonasera. Massimo Sabatelli è uno sportivo, perché ha iniziato con il rugby e poi si è convertito alla corsa. Ripercorriamo questo tuo rapporto con lo sport e questa tua virata verso la corsa ad un certo punto della tua vita. Sì, allora, sportivamente nasco con il rugby, con il rugby giocato, praticato per quasi una ventina d'anni. Una volta giunta l'età, insomma, finite un po' le batterie, dopo essermi elogorato per un po' di tempo, insomma, dopo vari anni di pratica, ho iniziato questa pratica. Ho iniziato a correre e ho iniziato questa passione per la corsa. Dopodiché posso dire che ho iniziato a correre e non mi sono più fermato. Per darmi un primo obiettivo ho iniziato questo allenamento per la prima maratona, che poi sarebbe stata quella di New York nel 2001. Ecco, questo è un particolare non secondario. 2001, tu hai corso alla maratona di New York nell'anno, purtroppo, tristemente ricordato per le Torri Gemelle e mi anticipavi il fatto che hai saldato la partecipazione proprio l'11 settembre. Sì, è stato un caso, praticamente, dopo aver organizzato il viaggio, il pomeriggio dell'11 settembre, ovviamente in Aro mi sono recato presso l'agenzia di viaggi, ho saldato il viaggio, la maratona e tutto, e quando sono uscito, accendendo la radio, le agenzie già stavano diramando il notiziario, il bollettino di quello che stava succedendo. Ovviamente lì per lì c'è stato un po' di sconcerto, poi dopo andando avanti, io e anche altri siamo resi conto che comunque era un'occasione a cui non si poteva mancare. Siamo partiti alla volta di New York per il 4 di novembre per effettuare, per correre questa maratona. Che ricordo hai di quell'avventura e di quell'atmosfera in particolare? L'atmosfera è quella che si vedeva in televisione, insomma, era esattamente quella. Ancora era tutto così, ancora i lavori erano in divenire. Ricordo che proprio per l'occasione hanno aumentato il numero delle iscrizioni che erano arrivate quasi a 40.000, di solito sono intorno alle 30.000, 25-30.000. Ricordo questa giornata di sole bellissima, però con tutto il contorno che c'era nella città di New York. Maratona di New York, poi anche altre maratone, non numerosissime, comunque un'attività costante a livello podistico. Sì, diciamo che l'ho sempre svolta a livello personale. Non ho mai fatto parte di un gruppo sportivo, ho sempre corso per mio diletto, mi piace correre anche lunghe distanze da solo, ho svolto gare minori, anche gare non certificate, mezze maratone, fino ovviamente a correre anche la Colle Marathon, la Colle Marathon che ho corso due edizioni fa. Però diciamo che in generale la corsa è una cosa che ho dentro, è l'attività sportiva di cui non riesco a fare a meno, che riesco a mettere in pratica uscendo di casa, indossando le scarpette, andando in giro per le strade e per le colline di Fano. Giusto per concentrarsi ancora un attimo sull'aspetto agonistico, il tuo primato personale? Vabbè, quello è stato, il primato personale è stato New York 3,29 e 15. Beh, non male. No, non è stato male, mi ero prefissato di arrivare nei primi 3.000 e ce l'ho fatta, insomma. E cosa è successo però negli ultimi mesi? Amore per la corsa, ma anche per formazione professionale, grande dedizione verso il sociale. E allora l'incontro, in rete possiamo dire così, con l'Africa Chiama. Sì, dunque, allora la mia attività professionale si basa sul sociale. Ho sempre lavorato presso cooperativa che si occupavano di sociale, nel campo della disabilità, attualmente lavoro in campo psichiatrico, e ho sempre anche svolto attività con persone con diverse abilità, e anche nel campo attuale dove lavoro. E diciamo che nell'organizzazione dell'ultimo viaggio è scattato qualcosa in me, di voler mettere in pratica qualcosa di più concreto, insomma, di fare qualcosa di sociale, non soltanto nel mio quotidiano lavorativo, ma anche nel mio personale. Mettermi in gioco come persona, non come lavoratore. Per cui farlo veramente partendo dal cuore. E da lì è venuta l'idea di fare queste esperienze in Africa, anche se conoscevo per sommi capi l'associazione Africa Chiama di Fano, però non sapevo che organizzava queste esperienze, e soprattutto questi corsi di avvicinamento all'olontariato, che poi permettono alla persona di poter effettuare... Di spendersi su quel territorio. E allora, muovendomi su internet, mi è apparsa l'Africa Chiama di Fano, con questi corsi che loro svolgono due volte l'anno. Periodicamente. Sì, periodicamente, comunque due volte l'anno. Dopodiché uno può decidere sempre concertati da loro, dove svolgere l'esperienza, anche perché loro comunque operano... In tre diversi paesi. In tre diversi paesi che sono la Tanzania, il Kenya e lo Zambia. L'Africa Chiama è un'associazione che opera in questo settore già ormai da più di vent'anni, dovrebbe essere ventun'anni, anche se l'attività dell'Africa Chiama, in quanto persone come la famiglia Nannini, come Italo che ne fu fondatore, iniziarono la loro attività molto prima. Erano un gruppo di famiglie, che ospitavano in casa dei bambini bisognosi di interventi, e voi per malformazioni genetiche o anche per malformazioni causate da problemi nutrizionali, venivano ospitate a queste famiglie di Fano e dopo operate nell'ospedale Santa Croce di Fano. Ma come è nata l'idea di abbinare questa tua esperienza di volontariato con l'Africa Chiama ad un'esperienza sportiva? Ok, questo è nato quasi per caso, perché dopo aver fatto il corso, deciso la destinazione, organizzato il viaggio per curiosità, visto la mia passione, sono andato per caso, sempre tramite internet, a vedermi il calendario podistico della Tanzania. E voi, il mio viaggio è durato dal fine di ottobre al fine di novembre, ho visto questa maratona nel parco del Serengeti l'11 di novembre, proprio a metà esperienza si può dire, e lì è scattato qualcosa dentro di me che mi ha portato a non farne a me. Si direbbe, mi reluti al direttevole, ma non è proprio questo il contesto. Esatto, sì, sì, esatto, anche perché è stata una maratona in generale anche dal momento della partenza, anche arrivarci, anche perché noi eravamo nel sud della Tanzania. Perché uno dice, beh, sono lì in Tanzania, mi faccio la maratona dietro l'angolo. In realtà il luogo della maratona era distante dal centro operativo, qualcosa come 1200 chilometri. 1200 chilometri. Diciamo che mi sono prima preoccupato di comprare il ticket per la maratona e dopo della distanza. Però, ovviamente, una volta ho avuto quest'idea, dopo ne ho parlato anche con gli organizzatori dell'Africa Chiama, che mi hanno supportato in questa scelta, e all'insegna del tutto il possibile, se lo si vuole, abbiamo organizzato questa cosa con la partenza da Eringa per arrivare a destinazione al partenza. Viaggio avventuroso, quello di trasferimento. Sì, diciamo che l'avera maratona è iniziato alle 5 del mattino del giovedì mattina. La gara è stata al sabato mattina e con questo viaggio in corriere che doveva durare fino alle 9.30 di sera. Quando invece, in realtà, dopo tante vicissitudini, corriera che si è rotta, dopo ha forato, dopo ci ha caricato in un'altra corriera, mi ha lasciato in un posto diverso da dove mi aspettava il tassista e per cui ho aspettato ancora tempo. Insomma, da arrivare alle 9.30 sono arrivato a destinazione alle 3 di notte, per cui dopo alle 3.30 sono riuscito ad andare a dormire dopo quasi 24 ore. La sveglia il giorno prima era stata alle 4.00 e ho dormito qualche ora e dopo alle 9 mi sono svegliato anche perché dovevo recarmi per il ritiro del pettorale, del pacco gara, andare a vedere il gate della partenza e la sera, dopo, pomeriggio dopo, sono entrati in albergo. Un'altra volta, sabato mattina, sveglia alle 4.00 del mattino perché alle 5.30 ci sarebbe stato il briefing per partenza. Da lì dopo ci hanno portato all'interno del parco per 7 km solo che anche lì stava iniziando la soggiorno delle piogge quella notte non ha fatto altro che piovere e le condizioni iniziali all'interno del parco non erano certamente ideali. Sì, perché parliamo di una maratona che si è svolta in un contesto particolare qualche tratto asfaltato ma molto sterrato e avendo piovuto c'è stata la complicazione di un fondo non proprio confortevolissimo. Diciamo che in preparazione non mi ero preparato quel tipo di fondo mi ero preparato alla lunga distanza a qualsiasi tipo di clima dal caldo all'acqua ma non a quel fondo. Un fondo particolare anche perché ci hanno portato all'interno del parco con i fuoristrada con i camion e il terreno era molto battuto e c'era questo terreno che non rimaneva attaccato alle scarpe ma bensì erano le scarpe che rimanevano attaccate. Abbiamo le immagini che possono in qualche modo aiutare a farsi un'idea. Questo è il tipico terreno che c'è nelle strade diciamo asfaltate ecco questa è la strada dove sono partito e c'erano continuamente mezzi che passavano e portavano i corridori lungo la linea di partenza Quindi segnavano ulteriormente? E segnavano sì perché compattavano sempre di più compattavano oltremodo passavano dei posti allagati praticamente delle piscine che fortunatamente sono riusciti a farci evitare mandandoci facendoci fare il giro dei campi insomma perché abbiamo fatto anche un po' di trail nella prima parte Insomma un'esperienza completa dal punto di vista agonistico Questa è parte della pista all'interno del Serengeti parte di quello che abbiamo fatto Questa è invece una deviazione che sono riusciti a farci fare ci hanno risparmiato quella piscina che sarà stata di 30-40 cm E a proposito di deviazioni non pago di tutte queste difficoltà anziché fare i 42 km canonici te ne sei sciroppati i 47 Sì dunque diciamo arrivati alla fine di tutta la parte sterrata del parco e a un certo punto c'era una deviazione diciamo che c'era molta gente accalcata in più parti della pista anche perché essendo molto bagnato insomma hanno coperto dei cartelli che io lì per lì non ho visto e cercando l'indicazione per per il percorso mi sono affidato a uno degli organizzatori pur facendogli vedere il numero 42 km nel mio pettorale mi ha mandato e mi ha fatto verso il percorso di chi svolgeva la 41 km la 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 21 km e la 10 km a un certo punto però all'ulteriore deviazione vedo il cartello 21-10 e mi rendo conto che non c'era che non era segnato 42 km allora prendo l'iniziativa non c'era nessuno a cui chiedere ritorno indietro riesco a chiedere a qualcuno mi dice che ovviamente ho sbagliato strada sono ritornato all'origine e da lì dopo sono ripartito per la maratona mi dice ritratto finale anche particolarmente impegnativo perché con una pendenza sì sì diciamo dal 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 ventesimo dal venticinquestimo chilometro delle pendenze notevoli per arrivare e fare il giro di boa e tornare e tornare verso 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 l'arrivo diciamo che quello che ho dovuto fare è stato abbassare il ritmo per cercare di arrivare sano e salvo ma soprattutto di arrivare anche perché avevamo una missione con l'Africa Chiama che era quella appunto di dimostrare che nonostante tutta l'avversità che possiamo incontrare nella vita così come l'incontro io così come l'incontra chiunque così come l'incontra anche l'Africa Chiama con tutti i progetti che porta avanti bisognava comunque arrivare a destinazione e tu sei arrivato a destinazione calando poi questo tuo risultato sportivo nel contesto più ampio e sicuramente più profondo di questo tuo impegno nel volontariato con l'Africa Chiama nei centri che l'Africa Chiama ha allestito ormai da anni in Tanzania e lì si apre un altro orizzonte ancora più ricco e che ti porterà indietro per sempre certo certo ovviamente faccio una piccola apprezzazione che tutto quello che ho fatto nel quotidiano per l'Africa Chiama per il progetto da che fare Chiama prima ero anticipato dal mio allenamento mattutino per cui comunque la sveglia è stata ogni mattina alle 5-5 e mezza per poter fare allenamento per poi dopo raggiungere i luoghi dei progetti questi qui sono questo luogo in particolare è una scuola nel circondario di Ringa dove noi abbiamo base dove grazie a un progetto di menze scolastiche si garantiscono dei pasti ai bambini che frequentano queste scuole scuole molto numerose che possono andare dai 450 fino ai 1200 bambini questa è una scuola mi sembra da 800 mi sembra bambini e grazie ai progetti che l'Africa Chiama porta in campo ai fondi che cerca di recuperare annualmente certo adesso è Natale grazie a Natale cerca di fare qualcosa in più ma il lavoro continuo che l'Africa Chiama fa durante l'anno perché portare avanti un progetto significa reperire fondi fondi che servono oltre oltre che a fornire il pasto ai bambini anche per comunque pagare il personale in luogo che è comunque il personale del luogo per cui dare anche una possibilità a gente a persone del luogo di avere una certa prospettiva ed avere un'occupazione magari a volte anche seppur minima però avere un sostentamento in situazioni in generale di difficoltà mi rendo conto che è difficile condensare in così poco tempo quello che umanamente ti ha trasmesso questa esperienza ma proviamo sì diciamo che ecco questo qui è il luogo dove andavo a fare allenamento nel campus Università Odiringa loro sono due ragazze del servizio civile che dell'onora la Claudia e la Chiara che svolgono servizio per un anno nel territorio di Ringa che ci hanno accompagnato in tutti i progetti che abbiamo fatto certo parlare di quello che abbiamo fatto che un'emozione 24 ore su 24 si fa un attimino fatica e diciamo che abbiamo seguito dei progetti che erano legati alla nutrizione come abbiamo detto prima ma anche alla malnutrizione infantile con dei progetti che convolgono le madri e il loro bambino ovviamente che si recono periodicamente nei centri dell'Africa Chiama per decorsi e per fornirsi anche di pacchi alimentari e questo dopo è accompagnato successivamente da delle visite domiciliari che le nutrizioniste sempre tanzaniane svolgono a casa di queste mamme che svolgono questi corsi per assicurarsi che le indicazioni che gli vengono date siano portate completamente insomma vengono portate a termine e dopo di che i bambini dopo vengono monitorati e diciamo che purtroppo parecchie volte questi problemi di malnutrizione dopo si tramutano in problemi anche motori anche i neurologici che portano a delle disabilità e dopo entrano in campo le fisioterapiste che sono sempre personale formato sempre del posto e noi comunque nel nostro piccolo dei volontari abbiamo sempre supportato tutto questo tipo di attività dalle menze alla fisioterapia alle visite domiciliari alla distribuzione dei pacchi alimentari tutto quello che c'era da fare insomma certo siamo consapevoli che non che non cambieremo mai la situazione noi quello che possiamo dare un piccolo contributo però dato da noi in quel momento dati da altri volontari che si muovono durante tutto il periodo dell'anno dato dal dal personale in loco dal servizio civile dai responsabili che operano nel settore diciamo si cerca di coprire annualmente un quadro generale insomma e cercare di essere di supporto a quante più persone possibili insomma un'esperienza unica e ripetibile verrebbe da dire questa del volontariato coniugato alla maratona ma mi pare che tanto unica non sia destinata a restare così? Diciamo che la prima sensazione che si prova mettendo piede nell'aereo per il ritorno è quella di voler ritornare e sicuramente magari di ritornare oltre che nello stesso posto anche girare altre parti dove opera l'Africa chiama che sono la Tanzania e lo Zambia anche perché ci sono anche altri tipi Kenya e Zambia dove ci sono anche altri tipi di progetti tipo il recupero dei ragazzi di strada e via dicendo oltre che magari si potrebbero provare altre sfide che potrebbero convoggere sempre l'esperienza insomma è già partita la ricerca in rete di qualche maratona che si possa in qualche modo conciliare con le tue ferie ed un nuovo periodo di volontariato da dedicare all'Africa chiama mettiamola così diciamo che stiamo bozzando qualcosa insomma sarebbe bello coprire tutti e tre i paesi in qualche maniera per dare un discorso di continuità al motto che ci siamo prefissi insomma che è tutto possibile se lo si vuole grazie a Massimo Sabatelli grazie all'Africa chiama per quello che fa noi torniamo fra qualche attimo continuiamo nella nostra esplorazione dell'universo sportivo del territorio e tocchiamo un pianeta che non avevamo ancora mai raggiunto quello del tiro con l'arco lo facciamo con l'aiuto del presidente degli arcieri Vega Fano Franco Mancinelli buonasera e benvenuto buonasera grazie e con Nicola Perini che porta colori degli arcieri Vega buonasera e benvenuto anche a lui buonasera grazie tiro con l'arco che disciplina che a Fano ha una sua tradizione e che probabilmente viene ricondotta se non dico una cosa fuori luogo ma non credo alla figura di Pio Ferri è così? sì è stato uno dei fondatori della società Vega Fano che è nata ormai sono più di 30 anni fa da una costola di una società di Pesaro prima erano tutti a Pesaro perché erano pochi poi quando quelli di Fano sono aumentati di numero si sono staccati hanno fondato la compagnia Ciri Vega e come si è sviluppata poi la faccenda? si è sviluppata facendo delle promozioni andando nelle sagre nelle fiere prendendo gli spazi noi organizziamo due gare all'anno nella città di Fano quindi magari la gente vede i cartelli si interessa fino a poco tempo fa avevamo il campo di tiro alla pista Zingarini e quindi era visibile visibile molto perché c'era un gran bel passaggio di persone tutto attorno che camminavano che praticavano altri sport e quindi c'era visibilità e magari dopo lì con numeri di telefono la gente interessata chiamava e dopo si organizzavano corsi d'avviamento e poi la gente dopo continuava chi aveva piacere continuava chi si avvicina al tiro con l'arco? c'è un profilo oppure gente di tutte le età di tutte le estrazioni? cioè noi il tiro con l'arco almeno nella nostra società noi spaziamo dai dieci anni ai 75 anni finché uno riesce a reggere un arco è in grado di sorgere lo puoi fare anche perché le gare che ci sono distinte per le varietà le gare al chiuso sono 18 metri un bambino di dieci anni con l'arco ci arriva ci arriva anche uno di 70 e qual è la molla che spinge un bambino ad avvicinarsi a questa disciplina? eh boh c'è un'attitudine particolare no secondo me io penso oppure i retaggi di giochi che comunque vengono fatti nell'infanzia io penso che i bambini nel loro immaginario abbiano questa storia del tiro con l'archio gli indiani i Robin Hood tutte queste qui Hunger Games adesso ci ha fatto pubblicità in un ragazzino dopo la fantasia spazia tanto è vero che i ragazzini vengono iniziano dopo la disciplina del tiro con l'arco non è così semplice come sembra e quindi quelli che riescono a proseguire che si impegnano tipo Nicola ottengono dei risultati perché richiede impegno richiede molto impegno nel tuo caso Nicola qual è stata la molla e a che età? io avevo circa dieci anni per il compleanno ero andato a vedere in un negozio insieme a mia cugina che aveva 19-20 anni siamo andati in questo negozio e ho visto un arco di legno quindi così curiosità l'ho voluto provare e da lì non è più smesso da lì ho avuto sempre questo pallino nella testa voglio fare tiro con l'arco abbiamo girato qualche mese non lo trovavamo da nessuna parte poi alla fine è venuto fuori alla Zengarini che c'era la società di Fano e sono andato subito a provare cosa ti piace di più di questa disciplina? eh è dura è dura scegliere perché anche diciamo la forza mentale che bisogna metterci perché non basta la forza fisica dei muscoli ma anche la forza mentale perché anche l'umore gioca sul tiro credo che sia veramente uno sport che si articola su equilibri sottilissimi la capacità di concentrazione determinante e anche la capacità di vivere i momenti decisivi di una competizione si chiama sport di destrezza non è uno sport di forza è uno sport di destrezza accomuna molti aspetti della personalità di una persona dal fisico per carità perché tanto un po' di forza vuoi o non vuoi per tirare un arco ci vuole però l'aspetto mentale è preponderante il sapersi autogestire la calma la pazienza nel tiro la concentrazione nel tiro filtrare le emozioni sì perché allora sembra un'azione del tiro di una freccia sembra una cosa statica invece è la cosa più dinamica che ci sia perché sono 47 controlli meccanici da fare per tirare una freccia in 7, 8, 10 secondi quindi ogni muscolo del corpo si muove per tirare una freccia con il cuore per tirare una freccia e quindi coordinare tutte queste cose è complicato abbiamo qui gli attrezzi e spiegheremo tra poco come si usano ma la prima domanda a questo riguardo che mi viene da porgere è un bambino o anche una bambina che si avvicina a questa disciplina deve essere munita di attrezzo oppure glielo fornite voi almeno nella fase dell'apprendistato quando una persona che magari mi chiama che vuole fare il corso così il corso l'attrezzatura la forniamo noi perché ha un costo si parla di? diciamo un'attrezzatura diciamo base nuova però può venire a costare intorno alle 400 euro e quindi un ragazzino che vuole iniziare che non sa specialmente se un ragazzo non sa se continua cosa fa ma anche in caso di grandi l'attrezzatura la forniamo noi una volta che ha fatto il corso che indicativamente sono 10 lezioni che però nel caso di ragazzi minorenni non finiscono mai perché sono sempre col tecnico a fare gli allenamenti l'adulto finite le sue lezioni se vuole continuare continua se vuole essere aiutato lo chiede di farsi aiutare oppure insieme agli altri si fa allenamento tutti insieme il tecnico c'è sempre anche perché sono io il tecnico c'è sempre il consiglio l'aiuto lo dà sempre ma nei ragazzi in particolar modo loro non si muovono se non c'è il tecnico quindi e allora prendiamo in mano questi attrezzi Nicola spiegaci un po' come si fa certo adesso questo attrezzo si chiama in particolare questo è un arco olimpico io adesso quindi siamo ai massimi livelli sì l'arco che appunto si usa alle olimpiadi io ad esempio è ormai otto anni che faccio questo sport piano piano ho migliorato sempre l'attrezzatura adesso sono arrivato ad un buon punto insomma un arco competitivo competitivo garantisce prestazioni dopo a lui il ragazzo che è tutti gli anni con lui riusciamo tutti gli anni a qualificarci per i campionati italiani quindi va a fare anche gare importanti gare anche per la regione va a fare gare e quindi uno dopo ha piacere di avere un'attrezzatura che gli garantisca delle prestazioni perché non è tutto l'attrezzatura non è tutto in un arciere anzi forse è la minima parte però concorre anche quella siccome oramai le gare si vincono per un punto su 600 punti totali si vincono per un punto anche il punticino che ti può dare l'attrezzatura è importante e questo lo sa anche la gente che magari segue il tiro con l'arco solo in occasione delle olimpiadi e che comunque lo fa con interesse perché sono sempre competizioni estremamente incerte sono tutte alla fine addirittura si arriva magari a una parità di punti e bisogna tirare una freccia unica quella che più si decide una medalla vince e puoi illustrarci anche come viene effettuato il movimento accennarlo in qualche maniera si parte tutto dalla posizione dei piedi perché è la cosa fondamentale perché se si posizionano bene i piedi il resto già seguiamo il punto basta solo prendere sopra la cocca con l'indice e sotto con le altre due nella prima falange si va in una piccola pretrazione per sistemare bene le mani pretrazione alta allineamento delle spalle contatti contatti che in questo caso io ho il mento e la punta del naso leggermente a destra e quando si arriva ad un certo punto un certo allungo che io in questo caso grazie all'arco olimpico ho segnalato da questo pezzettino in carbonio che si chiama clicker che mi avvisa che ad un certo punto della mia apertura hai raggiunto il tuo allungo puoi rilasciare quindi io sento che il clicker appunto è scattato io posso rilasciare continuare il tiro finirlo concluderlo ma comunque non lasciarlo a sé ecco fra tutti i movimenti però è quello che determina l'ultimo mi pare di capire abbastanza ma comunque che determina di più ecco sì sì e no sì e no c'è tutto un gioco di geometrie del braccio dell'arco il braccio della corda le spalle le scapole l'apertura delle scapole il rilassamento di alcuni muscoli e invece la trazione di altri muscoli è una cosa insomma complessa invece l'altro attrezzo questo invece è un arco compound che si differenzia diciamo la principale differenza che abbiamo con l'arco olimpico sono la presenza di queste ruote che si chiamano camme la loro funzione è quella di demoltiplicare lo sforzo e la potenza dell'arco all'aggancio quindi quest'arco qui si può permettere di avere potenze superiori all'arco olimpico e infatti grazie alle potenze superiori può gestire delle frecce di diametro più grosso e di peso maggiore quindi ha una maggiore diciamo ha una maggiore precisione anche perché ha un sistema di mira che ha una lente all'interno quindi avvicina leggermente il bersaglio è un sistema di allineamento della mira tramite questa questo diciamo aggesino qui che si chiama visette in cui la mira spazia da occhio visette mirino bersaglio come fosse il cavalletto di un fucile quando si usa uno e quando si usa l'altro dipende dalle competizioni dal livello no dipende da quello che uno preferisce usare sono competizioni cioè le competizioni sono si fanno assieme la gara è la stessa il compound ha una misura diciamo il compound al chiuso entrambi tirano a 18 metri o a 25 metri su bersagli che avevamo portato per far vedere su bersagli che sono piccolini diciamo mentre all'aperto il compound tira a 50 metri e l'olimpico a seconda delle categorie dell'età dei ragazzi spazia dai 25 40 60 70 metri 90 metri sport e tiro con l'arco abbiamo capito che si può svolgere al coperto così come anche all'aperto però gli arcieri Vega dove attualmente tirano perché mi pare che qualche problemino a questo riguardo ci sia allora noi attualmente diciamo al chiuso siamo nella palestra dell'ex scuola Carducci generalmente siamo la Torelli però siccome stanno facendo dei lavori di ripristino ci siamo spostati sull'altra palestra anche perché diciamo sui 18-25 metri è la distanza 18 metri è la distanza di un capo da pallavolo quindi abbiamo la gestione mentre all'aperto fino a quest'estate eravamo alla pista Zingarini in quel lembo di terreno in cui dovrebbe sorgere un tunnel si era detto anche il tiro con l'arco potrà essere ospitato da questa struttura al coperto è così? finché non lo vedo non ci credo anche perché noi stavamo prima stretti lì adesso che in teoria ci dobbiamo stare in tre la vedo un po' difficile capito? in teoria dovremmo spostarci all'ex campo del Val Metauro davanti alla centrale del Galz campo da calcio sì esatto e lì di spazio ce l'ho assieme al rugby perché anche loro dovremmo prenderne uno per uno sì noi dovremmo andare lì ancora non si sa quando riusciremo ad andarci perché ancora non si sa attendete fiduciosi atteniamo fiduciosi e problematici anche perché mentre le zingarini io avevo tutti i ragazzini che con la bicicletta arrivavano lì raggiungere quella sede sarà molto più complicata perché non c'è pista ciclabile l'autobus e quindi ci si adatta occorrerà uno sforzo organizzativo con le macchine magari con i genitori non comune si vedrà insomma grazie grazie a Franco Mancinelli presidente e allenatore abbiamo capito degli arcieri Vega Fano grazie a Nicola Pierini porta bandiera di questo club grazie ancora una volta a tutti voi per averci seguito questa è l'ultima puntata di questo 2023 in cui avete dimostrato il vostro affetto a sportissimo approfittiamo per augurarvi un sereno Natale e un proficuo anno nuovo ci rivediamo il 9 gennaio grazie a tutti